I diritti in cui il valore teorico è zero valgono sempre più di zero in quanto rappresentano opzioni di conquisto con tempo residuo alla scadenza. Vabbè, ci sono delle raffinatezze. Il prezzo di emissione è rilevante in opzione. Si possono vendere il doppio delle azioni a metà presso e non cambia la proporzione di identità a cui i nuovi azionisti hanno diritto. L'unica cosa da rispettare è che il prezzo di emissione deve essere inferiore al prezzo di mercato perché se il prezzo di emissione è uguale al prezzo di mercato che senso ha per il vecchio azionista a partecipare all'aumento di capitale? Vabbè, questa è una raffinatezza poi a fine conto, anche questo non penso di averla mai chiesta. Comunque, è una cosa in più. Vabbè, qui diciamo che non c'è niente di particolarmente rilevante. Questo ve lo leggete voi e diciamo che c'è una reazione positiva, gli aumenti di capitale per l'effetto quasi split, quindi praticamente perché aumenta il dividend yield. Quindi questa è la ragione. Gli effetti dell'operazione sul capitale, questo è importante, questa è una cosa che c'è, c'è una domanda. Nel compito, aumento di capitale privilegiato come emissioni di un'azione in opzione dei vecchiazionisti, rialzo del prezzo delle azioni, l'abbiamo visto, no? L'effetto quasi split, nell'esercizio. Frazionamento delle azioni, se viene mantenuto in alterato il dividendo, frazionamento delle azioni, è lo split dell'azione, cioè un'azione che quota 9000, detto nel caso del Monte Ipassi, siccome è folle che la signora Marisa compri un'azione a 9000 euro, io dico che ogni azione viene splittata in 900 azioni, perché 9000 diviso 900 fa 10, perché un'azione di 10 euro, ovviamente ha una liquidità diversa da un'azione di 9000 euro. Quindi il frazionamento delle azioni, nel caso in cui il dividendo venga mantenuto, ovviamente aumenta il controvalore di dividendi, quindi gli importi che uno incassa. Il raggruppamento delle azioni, teoricamente, se mi viene mantenuto in alterato il dividendo, significa che io prima prendo 10 dividendi, mi mettono assieme tutte le azioni e ne prendo uno, e quindi teoricamente ribasso del prezzo delle azioni. Però di solito quando raggruppano le azioni non c'è dividendo, quindi non si lamenta nessuno, anzi di solito ho un effetto positivo, perché la società si presenta meglio, e quindi c'è più liquidità, i tic di oscillazione sono percentualmente inferiori sul prezzo, c'è tutta una serie di... di solito però quando c'è un raggruppamento, poi ti massacrano di nuovo come ha fatto con il PS, e ti fanno un altro aumento di capitale molto punitivo. L'effetto quasi split è ovviamente PQ fratto PTO, cioè meno uno, abbiamo visto nello slide del 33, che c'era un incremento del tasso di dividendo del 20%, appunto per questo effetto quasi split, che è la ragione per cui gli aumenti di capitale quando c'è un dividendo piacciono agli azionisti, e quindi c'è un effetto positivo sui prezzi. Va bene, io ho finito questa parte della lezione, come sempre sono sforato da tutti i tempi, dopo abbiamo una parte molto molto importante, che è quella della struttura finanziaria, che faremo malissimo, abbiamo fatto i dividendi, faremo male questa parte, è come una coperta, che io mi tiro, se mi copro la testa mi scopro i piedi, se mi copro i piedi mi scopro la testa, così è ormai da dieci anni.